Un regista sotto le righe Un'immagine, un suono Dai creatori di Ugo per tutti, tutti per uno Hanno venato tra i cinque film più belli del monte Una sceneggiatura dalla forte carica ermetica Un cast difficile da chiamare tale Un film che nonostante tutto è stato fatto S come Savona Seconda opera prima del genio Peloponneso Andate al cinema, andate a vedere un film